Musica Consiglio straordinario sul lavoro Rendi conto dell'Assemblea Commissione speciale per la legalità Nella mattina del 26 maggio si è svolto a Palazzo Lascaris un consiglio regionale straordinario sulle politiche del lavoro richiesto dai gruppi di opposizione Nel pomeriggio l'Assemblea ha approvato il rendiconto 2014 del Consiglio e l'istituzione di una commissione speciale per la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi Il Consiglio regionale ha infine disegnato il nuovo difensore civico della Regione Piemonte un componente del Consiglio di amministrazione e un revisore dei conti della Fondazione 20 Marzo In copertina Più di 5.000 ragazzi hanno utilizzato Garanzia Giovani Piemonte Circa 3.500 sono stati assunti o stanno facendo un tirocinio Altri 2.400 sono stati avviati a percorsi di formazione e 274 inseriti nel Servizio Civile Nazionale Sono alcuni dei dati presentati dall'assessore competente e dibattuti dall'Assemblea durante il Consiglio regionale straordinario sulle politiche del lavoro richiesto dai gruppi di minoranza Il 26 maggio è stato approvato a larga maggioranza il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014 del Consiglio regionale che diventerà poi parte integrante del rendiconto generale della Regione 20 milioni di euro i risparmi conseguiti grazie alla riduzione delle indennità dei consiglieri dei vitalizi e delle spese per i gruppi consigliari Diminuite anche le spese per le locazioni per l'acquisto di beni, servizi e manutenzioni e per le retribuzioni del personale L'Assemblea legislativa ha deliberato all'unanimità il 26 maggio l'istituzione di una commissione speciale con compiti di indagine conoscitiva per la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi La commissione avrà tre compiti il monitoraggio e la vigilanza dei fenomeni corruttivi e di infiltrazioni mafiose interventi per il contrasto del fenomeno criminoso e la promozione della cultura della legalità Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti